Dopo la parentesi estiva il 29 settembre a San Siro con la Svezia. Ci si accorge che il clima del club Italia è diventato più sereno, più disteso. Non ci sono più le polemiche che precedevano ogni partita e c'è maggior disciplina, più attaccamento alla maglia. Non si può che dire bravo Valcareggi. La partita con la Svezia serve anche a assaggiare la preparazione dei nostri alla ripresa dell'attività. In effetti, come poi clamorosamente dimostreranno le squadre di club nelle coppe, unico superstito in Milan, siamo un po' in ritardo e soffriamo parecchio la miglior condizione degli svedesi. Per sbloccare il risultato nella ripresa ci vuole una prodezza di Anastasi che si avvita in tutto per deviare in gol il servizio di Capello. Capello. Rivera. In direzione di Riva. Rivera. Sfiora Riva. Prodezza di Anastasi, ribatte il portiere, Riva comodo 2 a 0. Per Gigi Riva 35 gol in nazionale, nessun canoniere azzurro l'ha segnato più di lui.